Focus sulla Liga e qualche consiglio, informazione utile per qualche richiesta che mi è pervenuta via email e via telefono. Questa è la classifica di Liga dopo la giornata 12. L'Atletico di Madrid, nonostante due partite in meno per l'inizio ritardato di Liga, rimane davanti ai baschi della Real Sociedad. La squadra di Simeone con 26 punti, complice le otto vittorie, due pareggi e le zero sconfitte. Di fatto è un punto più avanti della Real Sociedad di Algathil che questa sera non è riuscita a far sua la trasferta di vittoria nella derby con l'Alaves. Via Real ha 21 punti, a 20 punti torniamo il Real Madrid che più o meno è sempre nella stessa identica situazione. Modus operandi dell'ultima decade in Liga. Una squadra poco da Liga che ha vinto il massimo campionato spagnolo nella scorsa stagione, complice quello che si stava sviluppando in Liga. Di fatto prima del lockdown il Barcelona cambia la propria guida tecnica, passa da Valverde a Setién. Riesce Setién ad imprimere poco per volta la verticalità, la velocità di possesso, di palleggio, di transizione, di profondità nella propria squadra. Il Barcelona scava uno scalino di 4 punti prima del lockdown, arriva il lockdown per il coronavirus, quindi diverse settimane e mesi fermi. Si torna in campo, la Barcelona si scioglie come neve alla sola. Il vantaggio di 4 punti con la Madrid non basta, perde lo scontro diretto a Valdebebas 2-0. Il Madrid vince con anticipo la Liga, la Barcelona deve abdicare dopo diverso tempo lo scettro domestico, ma soprattutto dopo poco è coccente anche la delusione a Lisbona con il Bayern. 2-8 Setién viene cacciato, arriva Comanna, ma come possiamo vedere dalla Liga 20-21 il risultato è disastroso. 14 punti dopo 10 partite, giocate molto meglio in Champions League, ma con delle squadre non particolarmente esaltanti come il Ferencvaros, come la Dinamo Kiev, come una Juventus inguardabile all'Allianz Stadium contro i catalani. Di fatto il Barcelona è la vera grande delusione di questa Liga. 14 punti conquistati dopo 10 partite, comincia ad essere un solco importante con l'Atletico di Madrid a 26 punti. Sappiamo che cronicamente l'Atletico di Madrid ha dei periodi nel corso dei vari campionati che si sono susseguiti con il Ciolo Simeone in panchina, dove quando manca una certa condizione fisica, alcuni giocatori o quando abbiamo un numero di partite molto ravvicinate tra loro, spesso determinanti, l'Atletico di Madrid può faticare non poco a fare punti anche con squadre di basso valore. Anche in casa fa fatica a segnare. Quindi ci potrà sicuramente essere anche quest'anno un periodo di blackout per l'Atletico di Madrid. Il problema è che dietro non ci sono avversari in questo momento che potrebbero scalfire questo primato, perché abbiamo un Real Madrid che cronicamente fa tanta fatica in Liga. Abbiamo un Barcelona che sarebbe, a mio modo di vedere, ancora grande protagonista in Liga, perché per DNA, per il modus operandi, per il modo di giocare, a prescindere dal proprio allenatore, ha un'impostazione in campo dei propri giocatori e ha un modo di muovere la palla davanti che può mettere in difficoltà anche solo per inerzia qualunque avversario può arrivare a vincere contro qualunque avversario anche essendo solo al 50%. È chiaro ed evidente, poi, se arrivano prestazioni inguardabili come quelle a Di Cadice, in Andalusia si fa veramente, veramente fatica. E quindi anche i catalani potrebbero accusare questo svantaggio, questo divario, perché comincia davvero ad essere importante. 12 punti sull'Atletico di Madrid. Non molti, invece, sul Real Madrid, per quello che può contare il confronto Madrid-Barcelona, perché potenzialmente la Barcelona è a soli tre punti dal Real Madrid. Quindi, più o meno, il percorso del Real Madrid si può tranquillamente accumulare, associare con quello del Barcelona in questo inizio di Liga. Però, la differenza tra le due squadre è che, mentre nel caso del Real Madrid siamo abituati, non siamo invece abituati a vedere un Barcelona così poco convincente, così poco produttivo in termine di punti. Via via tutte le altre formazioni. Abbiamo un novero di squadre dell'Andalusia che sorprendentemente vede il Cadice a farla da padrone, anche se ha due partite in più rispetto alla Sevilla. 18 punti per la vera grande sorpresa e rivelazione di questa Liga LH. Cadice deludente, fino a questo momento il Sevilla. 16 punti dopo 10 partite giocate, quindi praticamente la metà per la squadra di Lopetegui, che sta accusando il finale della scorsa stagione, dove ha fatto un Europa League eccezionale. È arrivata a battere l'Inter, una squadra più quotata, qualitativamente migliore, ma con il gioco e con la struttura tattica, con l'impostazione tattica che ha dato Lopetegui, non c'è stata partita. Il Sevilla ha battuto una squadra che davanti ha dei giocatori che rispondono al nome di Lautaro e di Lukaku. Il Sevilla di De Jong ha battuto l'Inter di Lautaro e di Lukaku. Questo significa che quando una squadra ha un buon gioco, ha dei buoni effettivi, ha degli buoni schemi, può arrivare a battere anche un avversario più quotato, quantomeno sulla carta. Il Granada a 15. Il Granada ha fatto un ottimo inizio di Liga. Ha sviluppato veramente una grande impressione in questo inizio di Liga. Poi si è spenta. Le ultime partite è andata in difficoltà la squadra di Martinez. Oggi ha rimediato un punticino su Luesca. Bene. Ok, fa morale, però Luesca è ultimo in classifica e non ha mai vinto. Quindi, bene per come l'ha rimediata. Male per quello che è successo durante il corso della partita con dei gol subiti che veramente sono dei gol che neanche in terza categoria probabilmente si vedono più o quantomeno difficilmente si vedono in Serie C. Sta accusando il doppio impegno Europa-Spagna. Il Granada che è riuscito a derivare in Europa League sta facendo il suo percorso in Europa League a pieno merito alla squadra andalusa. Però sta patendo. Sta patendo molto, specie in questo ultimo periodo dove si stanno accumulando anche diversi infortunati. Il Betis. Il Betis l'abbiamo visto soccombere al San Mames in maniera netta per 4-0. L'abbiamo visto soccombere in maniera piuttosto netta in casa con Leibar. Si rialza, si rialza Pamplona. Un 2-0 che dà morale, che dà stimolo. La squadra di Pellegrini ha cambiato qualcosina. Qualche video fa lo dicevo. La Betis deve cercare di cambiare qualche qualcosina lì davanti perché Fekir è a rientro dall'infortunio, perché Joaquin è straordinario, Cristian Teio è straordinario, Sanabria è straordinario. Ma quando tu hai dei giocatori di questa qualità, quindi qualità interessante ma non eccelsa, messa a disposizione di una squadra da ottavo a decimo posto come il Betis, gli avversari nel corso del tempo prendono sempre più le contromisure. È vero che in Italia siamo i maghi della tattica e nel giocare su misura per l'avversario. In Spagna questo lo si vede di meno. Una squadra viene impostata sulle proprie qualità e sulla propria attitudine che ha nei propri effettivi. Però è chiaro ed evidente che ormai gli avversari del Betis conoscono a memoria quello che potenzialmente può fare dare Joaquin, che può fare dare Fekir, che può fare dare Cristian Teio, che può fare dare Sanabria. E quindi le squadre si sanno organizzare al meglio sul come neutralizzare questi giocatori, questi potenziali crack che di fatto non lo sono diventati. Sono dei giocatori di una qualità interessante, importante, che possono far bene in qualunque piazza, ma quando per troppo tempo li mantieni in una squadra da ottavo a decimo posto, gli avversari di fatto ti prendono le misure. Oggi il Betis ha vinto cambiando modulo e cambiando effettivi lì davanti. Barcelona, come detto, a 14 punti, Elkia a 14, l'Alaves con San Fernando Paceco, quindi l'estremo difensore dell'Alaves, che è riuscito con una serie di miracoli e di parate pazzesche a dare il punticino all'Alaves in casa contro la Real Sociedad. Athletic Club di Bilbao a 13, Ibar a 13, Gheddafe a 13, Sterta di Vigo a 13, a 12 troviamo il Valencia, a 11 il Levante e lo Zasugna, a 10 la squadra di Ronaldo, il Valladolid, a 8 invece l'Uesca ultimo in classifica, non riesce a vincere, 8 i pareggi, 4 le sconfitte. Questo è quello che sta avvenendo allo stato dell'arte in Liga. E se andiamo a vedere i risultati dell'Atletico di Madrid, ovviamente non dell'Real Madrid, i risultati sono risultati importanti in Liga, con tanti successi, con pochissimi gol subiti. l'Atletico di Madrid che ha sfiorato anche l'impresa di battere a momenti al Wanda Metropolitano, il Bayern di Monaco, la squadra più forte, a detta di molti, in Champions League insieme a Liverpool. L'Atletico di Madrid ha patito sostanzialmente ad inizio stagione, inizio Liga, dove ci sono stati due pareggi a reti bianche, in casa con il Villarreal e sul campo del Uesca. E quello che dicevo ad inizio video, quando l'Atletico non gira bene, difficilmente può vincere. Quindi fa fatica anche col Uesca, anche col Villarreal, fa fatica a segnare, fa fatica a vincere. Però attenzione, perché l'Atletico di Madrid sta integrando sempre meglio un giocatore importantissimo, un crack potenziale, come João Félix, che ha fatto vita, morte e miracoli alla Dalush con la Benfica, e soprattutto un certo Luis Suárez, che sappiamo insomma il potenziale che può dare. Quindi quando avremo una piena integrazione dell'uruguayano, avremo sicuramente un qualche cosa che farà molto, molto comodo in maniera molto pesante all'Atletico di Madrid, Atletico che aveva iniziato la stagione alla grandissima con la vittoria per 6-1 sulla Granada. In quella circostanza fu protagonista tra gli altri proprio Suárez. Questo è quello che sta avvenendo quindi in Liga, Atletico di Madrid che con due gare in meno rispetto alla Real Sociedad comanda la Liga. Due soli gol ha subiti, uno in trasferta a Pamplona con lo Zasugna e poi uno in casa con la Granada nel match inaugurale di questa stagione 20-21. è un Atletico di Madrid che a mio modo di vedere per le prossime partite proseguirà questo stato di forma decisamente importante, fertile, interessante in Liga. E questa è la classifica. Rispondo poi alle domande che mi sono pervenute via e-mail ma per farlo andrò nella seconda parte di questo video a mostrare gli incontri che ci sono stati alle 14 a Granada tra la Granada e l'Uesca e poi subito dopo l'incontro a Pamplona al Reino de Navarra tra l'Ozasugna ed il Betis e quindi nel focus nell'approfondimento di questi due match risponderò anche ad alcune domande che mi sono pervenute via e-mail e via telefono e quindi cercherò sinteticamente di dare una risposta a coloro i quali mi hanno chiesto un parere.